Ehi, Umbè! E tua moglie e tua figlia dove stanno? Sono andati al negozio di ottica. Perché non li hai accompagnati pure tu? E mi hanno detto che volevano comprare gli occhiali da sole. Ho detto andati. Meno male che ci sei tu. No, ma pure io voglio stare da sole. No, ma pure io voglio stare da sole.